Ormai siamo abituati a seguire una sorta di calendario annuale che comprende i periodi di riposo. Come non ricordare l'attesa, l'attesa ansiosa del periodo nel quale finalmente si potrà chiudere casa, non si andrà a lavorare, e ci si potrà magari riposare per un periodo più o meno lungo. Anche se breve, rimane comunque una tappa importante del nostro calendario. Dicono le statistiche che, stranamente, al ritorno dalle ferie si registra una sorta di depressione, di momentaneo periodo di depressione nei lavoratori. Evidentemente non tutto sembra filare come vorremmo che andasse. Ma c'è un riposo, un riposo che non è, per quanto legittimo, quello del corpo, ma è il riposo dell'anima. Certo, per alcuni il riposo dell'anima vuol dire semplicemente, è una sorta di espressione che è sinonimo di morte. Nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, non è così. Il riposo dell'anima non è la morte. Anzi, è la vita. Gesù, in un testo che è famosissimo nel Vangelo di Matteo, affermava Venite a me voi tutti che siete stanchi, che siete appesantiti, oppressi, aggravati, ed io vi darò riposo. E poi aggiunge Prendete su voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto, umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Ecco, il riposo dell'anima. Dunque, non è soltanto la quiete, serena, interiore, è specifico il riposo del quale parla Gesù, è il riposo dell'anima. Non è lo svuotamento momentaneo della mente, è il riposo di tutto l'essere nostro. Non è auspicabile, necessario. È desiderabile, ma è necessario che sia realizzato. E allora, come si fa? È sufficiente frequentare una chiesa? No. È sufficiente trovare un equilibrio interiore? No. Gesù, nelle parole che abbiamo letto, ci spiega come trovare il riposo delle anime. Ed è esattamente il contrario di quello che noi vorremmo fare. Prendete su voi il mio gioco. Imparate da me, che sono umile. In altre parole, se desideriamo che la nostra anima trovi riposo, quiete, che sia ricreata, rigenerata, è importante, è importante trovare non solo il tempo, ma ricevere la fede per fermarsi, sottomettersi, io sono umile di cuore, dice Gesù, per fermarsi, sottomettersi alla piena volontà di Dio. Quando sapremo chiedere a Dio aiuto, quando lo sapremo dire non solo con tutta l'anima nostra, ma per mezzo della fede, allora. Allora la volontà di Dio che pensiamo essere un gravame e invece un dolce gioco si poserà su noi e scopriremo che nell'ubbidienza alla volontà di Dio troviamo il riposo delle nostre anime. Dio